Bentornati su MyFootballJersey. Dopo aver visto la prima maglia, trovate qui in alto la recensione, vediamo ora la seconda del Messico per la stagione 2024-2025 che utilizzerà in Copa America in versione player. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info La prima maglia, come ho detto nel video, non mi ha convinto tantissimo. La seconda invece, secondo me, è bella. A me piace. Mi piace tanto questa rifinitura e il motivo che è creato, diciamo così, sul davanti. Ditemi nei commenti cosa ne pensate, se preferite la prima o la seconda, se non vi piace nessuna delle due e quali altre maglie, soprattutto, vorreste vedere. Il corso l'abbiamo visto molto basso, qualità eccezionale, rapporto qualità prezzo, veramente indiscriminabile. Ora, prima di lasciarvi alla parte finale, vi chiedo, come al solito, di iscrivervi al canale. Fatemi sapere quali altre maglie vorreste vedere. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti!